Come possiamo spiegare ai consolini che per tre giorni di fila abbiamo fatto uscire questo gioco? Non c'è due senza tre! Non c'è due senza tre! E ragazzi, come va? Io sono Fereniki Io sono Steph e che si giochiamo a Raft? Anche oggi, ebbene sì, anche oggi Purtroppo non riusciamo a resistere, ci dispiace, ci dispiace Stiamo esagerando Abbiamo una missione importantissima da fare Dobbiamo fare la nostra serra meravigliosa Non potevamo lasciare il nostro personaggio nell'oceano senza una serra, no? È indispensabile, ne ha bisogno Come fa? Come fa sopra via? Esatto, esatto Comunque abbiamo la carne di Pasqualo Quindi farà molto comodo e non avremo problemi di cibo Come sempre se l'ha detta l'acqua, se moriamo Guarda, spacco tutto, eh Se moriamo, spacco tutto perché riniziare Allora, se in questo terzo episodio non ci sarà nessun fail che ci costringerà a riniziare Guarda, davvero, sarà l'episodio più epico di sempre Sarà l'episodio speciale Un monumento perché davvero, sarà davvero difficile che non riusciamo a failare per la terza volta Quindi ci proveremo Allora, 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 questo episodio cerchiamo di concludere la nostra zattera Dopodiché, qualche giorno non facciamo più uscire il gioco perché davvero stiamo esagerando in maniera incredibile Il quarto episodio sarà una roba di costruzione un po' fantasiosa Quindi consigliateci nei commenti cose da costruire davvero pazzerelle e cercheremo di farle Tipo, cosa ne so, una muraglia fatta in mezzo all'oceano, una torre altissima, qualunque cosa Ricatenate la vostra fantasia e consigliateci le cose più pazze e noi proveremo a riprodurle Esatto Mi sembra una buona idea, non me ne avevi neanche parlato, adesso l'ho scoperto anche io Ti faccio le sorprese Insieme ai consolini mi sembra una buonissima idea Questo barile che è arrivato Grazie, bel barile Allora, ci mangiamo questo Allora, sto iniziando Sempre con il ventoio pieno Esatto Secondo me possiamo iniziare a fare le fondamenta che ci servono per fare i super pilastri Sì, sono d'accordo Che sarà una roba davvero super complicata Facciamo... sarà un po' strana questa costruzione, te lo dico Secondo me poi sarà meglio nasconderla per non farla più vedere a niente e nessuno Anche se nascondiamo tutti questi pilastri, pazienza Vero? Sì, assolutamente Come si chiama il nuovo squalo? Mi hanno consigliato il nome nei commenti Ok Quindi ho preso ispirazione dai consolini questa volta Va bene Pasqualino lo squalino Pasqualino lo squalino È dato Ti piace? Ti piace? Sì, e poi molta fantasia Dopo Pasqualo, Pasqualino non ci sarei mai arrivato io Perché questo è il figlio È Pasqualino lo squalino Il figlio di Pasqualo lo squalo E quindi vuole vendetta? Sì Ok Guardalo, guardalo, guardalo come vuole vendetta Guardalo Vieni qua che ti diamo uno colpettino così Per salutarci un pochettino Allora Torniamo a noi Tatta Ultima fondamenta Iniziamo a fare i pilastri Quindi ce ne servirà di sicuro Tipo secondo me uno qua E uno qua Ok Credo Non chiedermi bene cosa sto costruendo No, non l'ho capito neanche io Perché sinceramente Non ho una risposta Però Funziona Ok Guarda Ta Ta Ti Abbiamo purtroppo finito la legna Però vedi? Sì 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 Funziona Un po' strano Un po' particolare Però funziona Sì ma poi gli daremo una forma Che nessuno si aspetta Sfrutteremo Oh Pasqualino Pasqualino Cosa vuoi la nostra acqua? Proprio le risorse Hai sette? Sai perché? Ahah Perché vuole che moriamo Proprio attaccato subito le nostre risorse Sta cercando vendetta Io te l'ho detto Sì sì E l'ho arrabbiata Come risposta continuiamo a mangiare la carne di Pasqualo Proprio come dire Pasqualino Ne devi mangiare di pane Anzi ne devi mangiare di legna Prima di affrontarci Esatto Dato che mangiano solo legna questi poveri squali Ciao Mettiamo le ultime due Così la serra è completa Mettile un po' centrate No più al centro secondo me A scacchiera capito? Quindi in mezzo tra quelle quattro Quindi così Esatto Ok E l'altro è uguale Così almeno hai anche un bello Così Eh sì Così hai un sacco di spazio per passare Guarda Alla fine va bene così Sai che abbiamo fatto una roba davvero carina? Sì Davvero carina Davvero carina Mi piace Mi piace Mi piace proprio molto Era figata pazzesca Cosa costavano questi vasi? Legna Eh sì E beh ovvio Sono fatti di legno Che pretendi Che bello Avevo proprio voglia di fare un altro po' di legna Non ce la faccio più sappilo Non sopporto più raccattare legna tutto il tempo Quindi facciamo le mura Hai detto Solo ai lati E io pensavo Facciamo la versione finestra Così si vede anche Ho capito? Il panorama Allora Io pensavo solo negli angoli Capito? Tipo qua Cioè? Metti così All'altro angolo Ok Capito? No però così ad angolo Devi fare un angolo Ah ok Capito? Così Eh esatto C'è che è bellino? Eh sì Secondo me sì Perché farlo tutto secondo me è un po' troppo Eh ti rovina tutto qua Eh perché le hai messe troppo attaccate Ti ho detto di non metterle troppo attaccate lì Sì 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 Lì ho sbagliato totalmente E qua neanche È molto bellino Dai lo lasciamo così O alla fine se non si può fare non si può fare Ma secondo me possiamo pensare di buttare giù i vasi Sfruttando l'ascia Di riposizionarli un attimino Eh esatto E di finire di farlo Sì perché secondo me le dà una forma ma senza tapparlo troppo Sì però Perché ho notato dal pieno di sotto Mmh Che i muri tappano un sacco Capito? Cioè danno proprio la situazione molto di chiuso Invece Questi non ci stanno più a fare nulla No esatto Ci stanno malissimo qua Ok Tatta Quelli No lì secondo me devi chiudere invece Dov'è? Lì Qui Muro Muro Sì 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 Ma per Vabbè lì dietro non importa Però l'importante è che sia lì Così E quindi anche di lato Perché le abbiamo tolte di lato? Non lo so Non so perché le levate Non ti ho capito Non ne ho idea Le finestre c'erano lì Guarda che sei proprio scarso Cioè guarda cosa avevamo fatto Ti do ragione Lì le finestre Perché non mi ascolti mai Solo per quello Se tu mi ascoltassi avresti già un rifugio bellissimo Invece fai di testa tua e fai schifezze Cioè è ovvio Guarda che abbiamo fatto una roba bellina Allora vai finestre lì Mettimi Non ho legna Allora Allora prendi legna Mi metti delle finestre No E poi ultima cosa dobbiamo riparare I pilastri Come avevi detto Facciamo Tacchete Tacchete E tacchete Sì Quindi risulterà così Però con due palme in più Che adesso dobbiamo cercare di raggiungere Però ci serve Molta piligna Anzi no Uno ci esce già Quindi ce ne manca solo una Stiamo finendo le piantine Alla fine Alleluia Abbiamo iniziato a finire anche le piantine Beh a furia di costruire Devi andare anche a bere Fai attenzione Grazie Per una volta me ne sono accorta Grazie In tutto l'episodio Vado a bere subito Perché Federinichi mi ha avvisato Ed è stato un momento molto importante Tacchete Così Sì ci sta Piantiamo anche qua E guardate che cosa bellissima Che è uscita Adesso Stavo pensando un attimino Perché l'hai messa così storta? Vorrei capire È perché ha avuto qualche problema Dai Su Non capisco Non ti lamentare Secondo te è bellino mettere altri due muri finestra qui Con questo e questo che rimangono bucati? Non saprei Si può provare Proviamo nel caso li butto giù Dai tanto Sono da un lato Allora Dicevo quindi Ta E ta Si ci sta Vero? Si Per una volta ha apprezzato quello che ho fatto io Lì non so Ah no si si possono mettere abbastanza distante Si 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 l'avevo fatto bene Guarda che figata No lì lascio l'aperto E lì lasciamo l'aperto È bello È bello lì l'aperto Mi piace Guardate Ok dai Allora apporte L'acqua 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 Oh mamma mia Ti dicevo A parte tutto il disastro dei pilastri Secondo me Alla fine se non contiamo quello Comunque la forma del nostro rifugio a me piace Ma guarda da qui non li vedi più i pilastri Da sopra No certo vanno giusto protetti dagli squali Non li vedi più Capito Abbiamo fatto Fatti la parte quando sali E poi le palme è bellissima secondo me Giusto te l'ho detto bisogna proteggerli giù Perché se no ci vanno gli squali Allora Quello è un disastro Quello è un disastro Guarda che cosa carina che ti faccio Mettiamo il coso dell'acqua qui Si Ok poi mettiamo un pentolino Li mettiamo anche sopra Si 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 Li mettiamo anche da questa E' proprio una roba capito Visto che non abbiamo pezzi di arredamento Si non abbiamo neanche un letto ad esempio Poi vabbè mancano sicuramente le casse Le casse per poter Per poter mettere Per poter conservare quello che prendiamo Quelle saranno sicuramente essenziali E spero che le aggiungano in uno dei prossimi aggiornamenti Perché sono proprio essenziali Anche perché con le casse Con le ceste Riesce a fare anche cose di arredamento molto molto carine Quindi secondo me è molto importante Anche secondo me Però guarda che roba carina che ti sto già facendo E beh si dai Dai ci stanno al posto delle ceste Vero? Si mettine due Tipo due O anche tre Anche tre Ci stanno ci stanno Vero? Non ho legna Vabbè dopo lo faremo Lo faremo Non ho detto di farlo adesso in questo preciso istante Lo faremo Non ho legna Capito? Prenditela Non ne ho E' finita Allora Facciamo Quanti altri vedi ci escono Tac E te Non abbiamo più piantine Miracolo Abbiamo finito le piantine Ok ne ho fatto altri due 7 7 7 7 7 7 7 Che ci muori Ta No ma è troppo bellino È troppo bellino Ma abbiamo fatto un capo lavoro Avevo ragione Lì a mettere le finestre Cioè guardate che cosa carina Che è uscita Sì Vai a bere però Che stai morendo Vai a bere Prima poi continuiamo a guardare Però l'importante è che non muori E che non perdiamo tutto Direi Essenziale proprio Allora Mettiamo un'altra patata a cuocere E piantiamo altre piatate Perché comunque Piatate Piatate Le patate smettiamo di prenderle E le lasciamo proprio come piantine Perché comunque sono carine Sì sì Poi magari quando ci servono Se proprio prendono il cibo Tu la prendi e la ripianti Quindi Abbiamo altre cose Da poter piazzare esteticamente carine No Purtroppo sono finite No mi sembra proprio di no Eh va bene Però Guarda Guarda Sì mica male Mica male Bello quello di sopra poi Te l'ho detto Bello 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 Ultima cosa che facciamo Voglio iniziare le mura Che tanto non riusciremo a finire Ah no Non si possono mettere Ah no ok Non avevo i materiali Mi sembrava strano L'abbiamo fatto prima Mi è venuto l'infarto Dicevo Voglio fare un po' di mura qui Per iniziare A proteggerci la zona E fare una roba carina Esteticamente Quindi tac ete tac ete tac ete ta Mi sa che i muri non ci escono Però quantomeno finiamo di fare tutto il perimetro Che è già un ottimo lavoro Devi mettere un'altra foundation anche a lato Perché poi si chiude No si ma arriva fino a qui Ah ok Solo che quando abbiamo finito neanche le reti Ci siamo interrotti prima Ok va bene va bene va bene Le cose più importanti Capito Sì almeno così le ripariamo E siamo sicuri che lo scuolo Non vada a distruggerci anche quelle cose Ma pilastro disgraziato Non ci riusciamo a passare di lì Riraccato tutto Vabbè passiamo da qua Che è più comodo E certo Volevo iniziare a mettere giusto Qualche muro Per capire un po' come risulta Capito Sì Sì Sono d'accordo Sono d'accordo Ce lo facciamo a far lì? Credo di sì Sì un pochettino ci escono Quindi Sarebbe In questo modo qua Sì così almeno lo scuolo Non ci scoccia più Guardate Allora non ci puoi più scocciare Guardalo guardalo Si sta incattivendo Perché ha capito Niente muri Ma vedi che a Zanna Anche dove c'è il muro Ma no Quindi è totalmente inutile Fare questi muri eh Però sono bellini Ma la mia teoria era sbagliata allora Sì Era totalmente sbagliata Perché io è dello scorso episodio Che penso Se mettiamo i muri Giustamente non abbiamo visione Quindi allora lo scuolo Per logica Non dovrebbe più attaccare Invece a Zanna Dritto per dritto E allora non ha senso Neanche coprire quei pilastri Tanto Cioè Questo ormai magari Ce lo facciamo giusto A livello estetico Beh questo è bellino Comunque ci sono rimasta malissima Guarda che capolavoro No sono tristissima Eh ho notato Perché appena l'hai fatto Io ho fatto Che bello Siamo protetti E lui proprio a dispetto È andato dritto Cioè sembra che ti ascolti Sembra che capisca i tuoi pensieri E ti colpisca proprio Dove ti fa più male Capito Cioè ci sono rimasta malissima Non sei seria No sono seria Perché io ero convinta Che la mia fosse una buona idea Ne ero convinta Già da due episodi Cioè capito È una cosa un po' importante Questa Non è così Abbiamo felato Tutti e due In questa serie Non solo io Da prendere alla leggera Io ne ero stracovinta Guardate che roba bellina Le piantine così Poi tutte le cose da cucina Si sale La serra Con tutte le palme bellissime Il panorama Poi scendigli sotto E guardate che meraviglia Ovviamente qua Adesso poi Andremo a distruggere Tutti questi pezzi Perché ce li abbiamo Dall'altra parte Quindi qua non servono più Però Secondo me Esteticamente Abbiamo fatto un ottimo lavoro Si dai Sono soddisfatta Ci siamo ripresi bene Si per essere che abbiamo iniziato Davvero male Secondo me ci siamo ripresi Abbastanza bene Almeno esteticamente Risulta davvero carino Sono felice E stai Guarda li ho pure finiti Si Si Bello Promosso Bello Molto molto promosso Come sempre Un'ora e dieci di registrazione Ne vedrete 15-20 minuti Però Per fare questo gioco Dobbiamo registrare così tanto Per fare un bel episodio Speriamo che vi sia piaciuto Come abbiamo detto È bello giocarci Quindi pazienza È bello Infatti divertentissimo Come abbiamo detto Per il quarto episodio Aspetteremo un pochettino Dato che ne abbiamo fatto Tre di fila Che è stata una roba Davvero super esagerata Magari Perdonateci Lunedì Martedì Uno di quei giorni E cercheremo appunto Di fare qualche altra Costruzione folle Non è che ci siamo andati leggeri Già questo episodio Cioè Guardatelo già da qua È fantastico Assolutamente sì Però andremo ancora oltre Quindi nei commenti Consigliateci magari Qualche idea Che vi è venuta in mente E proveremo a farle Sarà divertente Sarà un esperimento Diciamo che portiamo il gioco Verso quel senso lì Tanto fra poco Secondo me Uscirà la nuova patch Magari ci aggiungerò Anche secondo me Un po' di cosette In più da fare Bene che ci sia così Se ci stai lasciateci un bel like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao